Ciao ragazzi, nella lezione precedente abbiamo introdotto i problemi con i segmenti e abbiamo imparato a calcolare la misura della somma e della differenza di due segmenti di cui è nota la misura. Quindi se volete andare a rivedere questa lezione andate nella descrizione del video, nella playlist altri problemi con i segmenti. Adesso proseguiamo con un altro caso molto semplice, ovvero quello che tiene conto del calcolo della misura del multiplo di un segmento di cui è nota la misura. Come vedete ho lasciato già lo scheletro della risoluzione. Allora, leggiamo bene la traccia. Un segmento misura 20 centimetri, costruisce un secondo segmento che è il suo multiplo secondo il numero 4 e calcola la sua misura. Cosa vuol dire che il secondo segmento è il suo multiplo, cioè il multiplo del primo segmento secondo il numero 4, abbiamo visto in classe che questa frase può essere praticamente sostituita da quadruplo, cioè dire che un segmento è il multiplo di un altro segmento secondo il numero 4, vuol dire che questo segmento è il quadruplo del primo, di quello dato, o equivalentemente si può dire che il secondo segmento è 4 volte più grande del primo. Poi, dopo aver capito la traccia del problema, dobbiamo scrivere i dati e qui ne abbiamo due. Innanzitutto dobbiamo scegliere come chiamare i nostri segmenti. Per semplicità indicheremo il primo segmento con AB e il secondo segmento con CD. AB sappiamo che misura 20 centimetri. L'altro dato che abbiamo a disposizione è quello per cui CD è il multiplo di AB secondo il numero 4. Possiamo scrivere molto semplicemente 4 AB, oppure se vogliamo portarci un po' avanti e quindi scrivere già l'operazione che dovremmo fare all'interno dei calcoli, possiamo scrivere che CD è uguale a 4 per AB, cioè 4 volte AB. Dopo ragazzi dobbiamo scrivere l'incognita. In questo caso l'incognita è una soltanto perché dobbiamo calcolare praticamente la misura del segmento CD. Quindi possiamo scrivere CD oppure se vogliamo CD uguale a punto interrogativo proprio per specificare che non lo conosciamo. Come sempre dobbiamo scegliere un'unità di misura. Dato che il primo segmento misura 20 centimetri è facile sì rappresentare 20 trattini sul nostro quadernone, però poi dopo siccome dobbiamo rappresentare CD che è 4 volte AB dovremmo fare poi 4 per 20 80 trattini e non ci converrebbe. Allora decidiamo ad esempio ragazzi, ovviamente è una convenzione, potete scegliere voi quanti trattini prendere in considerazione. In questo caso io prendo 4 trattini e dico che 4 trattini messi insieme misurano 10 centimetri. Così se devo rappresentare il segmento AB che misura 20 centimetri chiaramente devo raddoppiare il numero. Se 10 centimetri sono 4 trattini per cui devo andare a prendere in considerazione 4 quadratini sul mio quadernone, allora per AB devo prendere in tutto 8 quadratini e quindi 8 basi di quadratini. Dopodiché CD è 4 volte AB quindi quando lo vado a disegnare devo mettere l'uno accanto all'altro 4 segmenti uguali ad AB. In tutto se avete scelto come me questa unità di misura vi dovrebbero risultare 32 trattini quindi 32 quadratini presi in considerazione per rappresentare CD. Come vedete ragazzi io praticamente ho ricopiato AB 4 volte ma evidenziandolo di colori differenti proprio per farvi capire in tutto quanti segmenti ho uguali ad AB e questo mi serve. Voi magari sul vostro quaderno o evidenziate ogni segmento di colore differente oppure come vi ho fatto vedere in classe mettete una piccola barretta verticale per separare un segmento uguale dall'altro segmento. E allora ragazzi potrebbe servire già all'interno del disegno andare a scrivere tutte quelle misure che noi già conosciamo. Per esempio sappiamo che AB misura 20 centimetri ed allora ogni segmento che è uguale ad AB misura 20 e siccome CD è formato da 4 segmenti che hanno la stessa misura di AB possiamo scrivere sotto ogni segmento che abbiamo evidenziato o con colori diversi o con le barrette verticali con 20 centimetri. Faccio a meno di scrivere l'unità di misura solo per comodità ma ricordatevi come sempre di scrivere l'unità di misura all'interno dei risultati delle vostre operazioni che scriverete qui in basso a sinistra. Se avete fatto questo passaggio ragazzi sarà molto facile capire quanto misura CD. Semplicemente dovrete addizionare tutti questi 20 ma siccome si ripetono 4 volte potrete fare anche una moltiplicazione cosa che avevamo già detto all'interno dei dati. Quindi o fate 20 più 20 più 20 più 20 per calcolare la misura di CD oppure semplicemente 4 volte AB quindi 4 per 20. E allora il problema risolto molto semplicemente e velocemente perché vi basterà soltanto scrivere all'interno del riquadro delle operazioni che CD è uguale a 20 per 4 quindi 80 centimetri. Grazie. Grazie.